Caro amico di Rimorchiadonne, in occasione del Black Friday ho deciso di offrirti qualcosa di veramente grandioso leggendario, memorabile, mitico, straordinario, titanico indipendentemente da quello che può essere la tua situazione attuale ossia che tu già te la cavi benino con le ragazze o magari sei completamente a digiuno di nozioni seduttive e l'unica donna con cui hai parlato negli ultimi mesi è tua madre quello che ho da proporti è applicabile per tutti ed è tremendamente utile ed indispensabile soprattutto per i tempi di oggi nozioni che puoi applicare all'istante in modo che tu possa raggiungere i tuoi obiettivi in fatto di donne nel minor tempo possibile quelli che per me sono stati anni per te saranno solo una manciata di ore e stiamo parlando di anni di sacrifici, di tentativi, di rifiuti, pali in faccia e figure di merda per arrivare finalmente alla formula esatta il metodo che ti permette di passare da una situazione in cui non hai una donna ad una situazione in cui hai una donna ho realizzato dei contenuti epici e non le solite stronzate che ti suggeriscono i fuffaguru lì fuori venditori di fumo come ad esempio rincorrere come uno sfigato morto di figa ragazze per strada che si sono autoproclamati maestri di seduzione l'altro ieri se mi segui da tempo sai benissimo che sono presente con rimorchiadonne.com dal 2008 e sono circa 15 anni che aiuto gli uomini a saperci fare di più con le donne in tutti questi anni ho aiutato centinaia di ragazzi a raggiungere i loro obiettivi con il gentil sesso il mio unico scopo è quello di aumentare la tua conoscenza nel campo della seduzione per permetterti di raggiungere dei risultati concreti e tangibili esattamente gli stessi risultati che hanno raggiunto centinaia di uomini grazie al mio aiuto prima di te se hai trovato utili i consigli che dispenso nei miei video su youtube e nei miei altri canali social allora sappi che sono soltanto la punta dell'iceberg immagina quindi a quali altre informazioni puoi avere accesso grazie alle mie guide avanzate infatti in occasione del black friday ho deciso di mettere in offerta il metodo rd il metodo più semplice per rimorchiare una donna ma non è finita qui perché inclusa nell'offerta avrai anche a disposizione conquistagram il primo corso italiano che ti insegna a conquistare ragazze con instagram ma queste non sono le uniche due chicche che ho in serbo per te in questo black friday adesso tieniti forte perché sto per offrirti qualcosa di grandioso una consulenza telefonica personalizzata con il sottoscritto per ricevere consigli mirati cuciti su misura in base alla tua situazione personale grazie al mix di questi tre elementi unici metodo rd conquistagram più il servizio di consulenza personalizzata hai l'opportunità di stravolgere completamente la tua situazione in fatto di donne informazioni a 360 gradi per una visione totale non settoriale sulla seduzione in modo da installare nella tua mente le giuste informazioni per diventare un seduttore di successo saperci fare di più con le ragazze ed avere finalmente al tuo fianco la donna che meriti ti avverto non faccio mai sconti di questo genere l'unica eccezione è per il black friday e non avrai più un'occasione di questo tipo non dico uno non dico due ma tre prodotti al prezzo di uno tra l'altro super scontato è un'offerta assurda e irripetibile dal valore smisurato che ti farà trombare come un riccio e quando alla fine di ogni mio video dico che non sono qui per fotterti ma sono qui per farti fottere sto dicendo un'assoluta verità che mi caschino le palle in un tombino se così non fosse ma quanto devi sborsare per questa occasione ripetibile ti dico che potrei farti pagare serenamente il tutto per un migliaio di euro ma rd questa volta è stato davvero magnanimo ecco perché ti consiglio di non rimandare e sono sicuro che rimarrai a bocca spalancata quando leggerai il prezzo ridicolo con il quale potrai avere tutto questo ti ricordo però che questa offerta imbarazzante terminerà il 30 novembre e ti dico questo perché puntualmente c'è sempre qualcuno che mi contatta e mi dice rd scusa mi sono dimenticato anche se oggi è 3 dicembre vale ancora l'offerta? no! il 30 novembre chiude indi per cui ti consiglio di non procrastinare ti aspetto dall'altra parte per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi